Il 25 aprile è la festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, cioè dalla dittatura e dall'occupazione militare da parte dei nazisti, in particolare perché c'erano i nazisti, soprattutto nel nord Italia, che hanno fatto cose efferate, ma dappertutto, e di quello statarello fantoccio che era la Repubblica di Salò, che era uno statarello fantoccio gestito dai nazisti, comunque, di fatto. Allora, l'Italia il 25 aprile è la festa della liberazione, e la liberazione è un momento fondante del paese, domani il Presidente della Repubblica andrà all'altare della patria, perché sono parti essenziali della vita di una comunità. La Meloni ha deciso di andarci, viva Dio, ma la russa, la russa prima ha detto che la Costituzione non è propriamente antifascista, ma secondo voi può avere ragione uno che fa il Vice Presidente del Senato, il Presidente del Senato, che sarebbe quasi un Vice Presidente della Repubblica perché è la seconda carica dello Stato, da noi non esiste, come sapete, il Vice Presidente della Repubblica, la seconda carica è quella del Presidente del Senato, lui è la seconda carica dello Stato. Ha detto questo, non solo, ma decide di andare in Repubblica cieca a onorare la vittima di una repressione comunista. Ci sta, ma su 365 giorni all'anno, come gli ha detto bene l'Associazione Partigiani, ma perché deve andare il giorno della liberazione? Poi ha capito che ha fatto una grande minchiata, come direbbe il nostro amico Fiorello, una grande minchiata. Allora che fa? Prima va con la Meloni e col Capo dello Stato all'altare della patria, poi prende un volo di Stato, immagino, e va un attimo nella Repubblica cieca. Ma vi pare una cosa decente? Ma perché non si dimette se uno non è in grado di fare il Presidente del Senato? Ma si dimette. Ma aggiungiamo ancora. Vi ricordate Gianfranco Fini? Gianfranco Fini era stato il segretario del Movimento Sociale. Il Movimento Sociale era, nella Prima Repubblica, il partito più di riferimento della destra. Il partito che riteneva il fascismo tutto sommato non così male, eppure Fini aveva deciso, fondando Alleanza Nazionale, di dichiarare che era importante essere antifascisti. Ieri Fini, che è stato il segretario nazionale del Movimento Sociale, quindi che viene da quella storia, ha detto che è assurdo che Fratelli d'Italia non si definisca decisamente antifascisti. Ma scusate, ma può essere male? Ma pensate a governare, a fare le cose serie, ci state facendo esaurire su cose che dovrebbero essere scontate, come la democrazia. Cioè, è scontato che i cittadini abbiano il diritto di voto o pensano Meloni e gli altri che forse no. Non tanto la Meloni, perché Meloni è furba e infatti Meloni si guarda bene da sparare cose così surreali e sbagliate. Quindi Meloni va all'altare della patria, ha cercato di tenere un profilo basso, ma non può tollerare che il Presidente del Senato, che è del suo partito, dica cose così da pazzo. Da pazzo, da cose inaudite per un Paese che è una Repubblica democratica fondata sulla liberazione dal fascismo. Esattamente su questo. Allora, domani perfino la Lega, le altre forze, ovviamente, Tagliani, tutti quelli del centro-destra vanno. E ora vediamo che succede. Ma quello che è grave è che cose che dovrebbero essere scontate, cioè l'ABC, 2 più 2 fa 4. E in una Repubblica fondata sull'antifascismo, dove si giura sulla Costituzione, anche io quando ho fatto il Ministro, io due volte, dal Presidente della Repubblica ho giurato di adempiere il dovere di Ministro della Repubblica, ho giurato dove? Sulla Costituzione. Questo lo fanno tutti i Ministri dall'inizio della Repubblica italiana, perché si giura sulla Costituzione. Avete capito? Allora, questi giurano sulla Costituzione e poi sono spergiuri. Giurano sulla Costituzione e sono spergiuri. Sono degli spergiuri? E possono stare nel Governo della Repubblica, nelle cariche istituzionali, persone che sono spergiuri? Loro sono degli spergiuri perché hanno giurato sulla Carta Costituzionale e poi se ne fottono della Carta Costituzionale. Alla prima occasione, quando c'è la Festa della Liberazione, che è una festa di Stato, non è la festa di alcune realtà. E non a caso è festa nazionale. Perché non si va a scuola, non si va al lavoro? Perché è una festa nazionale. È come se negli Stati Uniti all'indipendenza, la festa dell'indipendenza, uno dice, io sono contato all'indipendenza americana. Ma lo cacciano a calci, se dice una cosa del genere. E allora noi non possiamo tollerare che persone che rivestono cariche istituzionali non adempiano il loro compito per cui hanno giurato sulla Costituzione. Punto. Quindi o domani onorano la Festa della Liberazione oppure dobbiamo chiederle dimissioni di tutti. Tutti coloro che ritengono che la Costituzione non sia antifascista. Allora quelli che lo ritengono se ne vanno. Via. Dice Loredana, questa destra dimostra tutta la sua incapacità. Usa queste uscite tutte insensate. E in realtà fanno tutto questo. Soprattutto perché ci distraggono anche dai veri problemi. Nel frattempo non riescono a fare i fondi per il PNR. Nel frattempo attaccano le pensioni. Nel frattempo stanno criticando il reddito di cittadinanza. E poi anche non vogliono il salario minimo. Lo vogliono in modo talmente strano che non è più un salario minimo. C'è una barzelletta. Però questa roba è intollerabile. Pensate che a un sondaggio il 50% degli italiani ha risposto che teme addirittura che ci possano essere state delle cose... come dire... ci possano essere stati... come dire... ci potrebbe essere un ritorno del fascismo. Un ritorno di una dittatura. Cioè pensate al 50% delle persone. Con tutte queste sparate che fa... che fa la Russia in particolare e poi ogni tanto qualcun altro. Un 50% dei nostri cittadini addirittura teme che ci possa essere una dittatura. Guardate, è gravissimo. Nel senso che queste sono quelle cose che dovrebbero essere, come dire, livello minimo scontato. E invece no. Noi stiamo assistendo a una tale follia del parlare. Che poi il parlare non è che la parola non ha un peso. La parola ha un peso. Perché se lo dice un'istituzione, se lo dice un Presidente del Senato, è chiaro che ci saranno dei pazzi scatenati, nazisti, fascisti, violenti, picchiatori, che magari veramente si sentiranno in dovere di andare a sprangare qualcuno. Perciò è intollerabile. La parola è pesante. Soprattutto se la dice una persona delle istituzioni. Cioè uno che ha un ruolo istituzionale non deve parlare a bambera. Non dovrebbe parlare a bambera nessuno. Ma tanti cittadini comunque parlano a bambera. E ci sta. Ma non può parlare a bambera uno che sta, come dire, nelle istituzioni ad alcuni ruoli. Dice Daniele, diciamolo, questo governo di destra è composto da fascisti. Ma i nazisti non lo so. Ma sicuramente hanno questi rigurgiti, questi ricordi di cose che dovrebbero essere completamente superanti. Ma se Fini nel 94, Fini era il segretario del Movimento Sociale, che era un'organizzazione considerata da tanti neofascista, per essere molto chiari. Poi loro dicevano che erano più democrazioni, ma di fatto era l'organizzazione più di destra del paese. Fini nel 94 ha fatto un congresso, ha cambiato il nome, ha chiamato non più un movimento sociale, ma alleanza nazionale, e ha detto che loro si riconoscevano i valori antifascisti. Ma parliamo di 30 anni fa. Dopo 30 anni, noi che abbiamo fatto? Abbiamo fatto. Prima hanno fatto il PDL, perché la storia è questa. Alleanza nazionale si scioglie insieme a Forza Italia, fa il partito delle libertà. Dopo delle libertà, domani a festa è della liberazione, loro parlano di libertà, ma non vogliono onorare la liberazione dal fascismo. Che è una battaglia di libertà. Cos'è la liberazione dal fascismo? La battaglia di libertà è. Nel 94 Fini decide di chiudere con l'esperienza, o meglio di far traghettare, si chiama così, il movimento sociale, un po' come succedeva col crollo del partito comunista, che diventa prima partito democratico di sinistra, poi DS, eccetera. Il movimento sociale decide di trasformarsi, prendendo anche altre persone che non erano e non venivano dall'esperienza neofascista, diciamo così, o del movimento sociale, fanno alleanza nazionale, giusto? E vanno anche per la prima volta al governo. Allora, se quello l'ha detto allora 30 anni fa, il vostro segretario, perché la Russia, quello era il segretario tuo, era il tuo capo. Il tuo capo Fini oggi ti dice, ma che caspita, ma dopo 30 anni ancora discutete di rigurgiti fascisti, ma non vi vergognate, ma non ha detto proprio non vi vergogliate, ma sostanzialmente dire non avete capito nulla. Dopo tanti anni ancora discutere di questo. Voi dovete onorare, e basta, onorare le vittime del nazifascismo, onorare la liberazione del Paese dalla dittatura e la Costituzione che grazie, giustamente ieri non so chi l'ha detto, e talamelo, guarda, se tu sei diventata Presidente del Consiglio è perché in questo Paese non c'è una dittatura. Col fascismo e con le dittature di destra le donne non sarebbero andate da nessuna parte, men che meno alla Presidenza del Consiglio. Hanno fatto bene a chiarire questa banalità. Quindi noi dobbiamo, con molta serietà, festeggiare bene tutti la liberazione Italia dal fascismo, onorare la festa della liberazione e poi cercare di pretendere anche una classe politica decente. Perché dico questo alla fine? Perché continua la telenovela Calenda-Renzi. Adesso Calenda, l'avete sentito Calenda, Calenda ha detto, ma forse ho sbagliato a dire che Renzi è un mostro. Ma perché lo dice? Perché c'è un crollo nei sondaggi loro dopo questa sceneggiata francamente impensabile. E per di più, qual è la verità? Che se loro si dividono, Italia viva di Renzi e azione di Calenda, in Parlamento non hanno i numeri per fare i gruppi parlamentari e per avere le risorse economiche per gestire i gruppi. Adesso Calenda che dice, ah non voglio più stare con Renzi, ma teniamo almeno insieme i gruppi, almeno dirlo palesemente, lo fai per i soldi, per l'agibilità, come si dice in gergo, no? Però è francamente penoso, perché dopo tutto quello che ha detto a Renzi, pessimo, l'hai considerato pessimo, l'hai considerato un personaggio allucinante, uno che prende i soldi dagli arabi, eccetera, eccetera, hai detto di tutto, oggi dici che Renzi non è proprio un mostro, che forse è sbagliato, è esagerato e guarda caso contemporaneamente che volete mantenere i gruppi insieme perché se vi dividete ovviamente non beccate poi i soldi per mantenere una serie di segretari, collaboratori, eccetera, dei gruppi parlamentari. Ma può essere che a questo si è ridotto il dibattito? Cioè avete dimostrato veramente una cosa che anche per quelli che vi disistimavano è eccessivo, pensate per quelli che vi stimavano, cioè una cosa dove uno dice quello è pazzo, non ha preso le pillole, quell'altro dice quello è un mostro e prende i soldi da chi sa chi, ma è modo di fare, ma non è meglio come dire, almeno inventate che uno di voi si sente più di cento, uno più di destra, dite che avete qualche elemento in cui discutete di qualche tema, non banalmente o di soldi o di insulti, ecco questa è la cosa, quindi da una parte abbiamo questi che non capiscono che devono andare alla festa della liberazione perché è proprio l'ABC e hanno giurato questo e hanno giurato sulla Costituzione repubblicana, quindi non fate gli spergiuri. Dall'altra questa sceneggiata veramente penosa che trasforma la politica in un mercato delle vacche col rispetto del mercato delle vacche che ha una sua logica, mentre questo è un livello veramente penoso. Quindi io intanto vi saluto, vi auguro ovviamente una buona vigilia della festa della liberazione e vi ricordo sempre le campagne che ho in corso, vedete ogni tanto i post, perché i post sono con il cibo a volte perché c'è la campagna per difendere i cibi tradizionali italiani che si chiama No Fake Food, a volte facciamo io viaggio italiano e promuoviamo il turismo e poi ci sono le cose da sostenere come per esempio la proposta di legge e iniziativa popolare contro questa autonomia differenziata, cioè la legge sfascia Italia o spacca Italia come preferite di Calderoli e poi anche questa cosa interessante del referendum che permette di mettere in discussione finalmente l'invio delle armi come unico strumento per ottenere la difesa di un popolo sicuramente aggredito dalla Russia ma che non va difeso solo con le armi, visto che tutti gli mandano solo armi, ma con qualche paese che faccia un po' di azione diplomatica per arrivare al cessato il fuoco. Io credo che un referendum di questo tipo dice cose utili e può essere importante. Chi viene meno al giuramento dovrebbe decadere dall'incarico e sono d'accordo. Così come ho fatto la battaglia, ma qua è un paese che ha addirittura quello che ha aggredito Gimmi Ghione nell'agenzia delle entrate perché non faceva gli scontrini e quello gli chiedeva perché non fa gli scontrini. Quello invece di scusarsi e di dire che aveva fatto una cosa pessima, che fa? Lo aggredisce. E poi c'è voluto 15 giorni che ho fatto un appello, ho fatto fare un'interrogazione per fare che per chiudere un bar che tu dovresti chiuderlo la sera stessa, vedi il servizio di striccio e ci sarà un superiore che dice scusa chiudi qua e vava attento. Perché non è possibile? Ma siamo in un paese francamente abituato a delle cose da pazzi. Ed ecco perché consideriamo anche normale, alcuni considerano normale, avere come, ecco sono contento che Paolo ha firmato il referendum, sono contento che molti considerano invece non normale avere un presidente come la russa. Quindi la russa o ti adegui o ti dimetti perché chi giura sulla Costituzione deve rispettarla. Se non se la sente va a fare qualche altra cosa ma sicuramente non il rappresentante istituzionale. Un saluto a tutti. Ciao.